Non è un viaggio quello che state iniziando, ma è un cammino che vi deve portare a diventare santi e tu dovrai essere un santo marito e presto anche un santo papà e tu dovrai essere una santa moglie e presto anche una santa mamma per i figli che Dio vorrà donare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.